La piscina riabilitativa del centro australia continua quasi misteriosamente a non funzionare stava nell'ennesima segnalazione da parte di una telespettatrice affetta da sclerosi laterale primaria. Il mistero è legato alla motivazione del non funzionamento dell'impianto che secondo alcuni utenti sarebbe dovuto ad un guasto tecnico, una pompa più precisamente. Secondo altri mancherebbe invece il bagnino. L'unica certezza è che se fino a qualche tempo fa la piscina funzionava a fasi alterne. Da un mese l'impianto è completamente fermo. Questa situazione sta causando una serie di difficoltà ai pazienti e dalle loro famiglie che per far fronte alle esigenze terapeutiche dei loro cari sono costretti a dirigersi in centri privati, strutture a pagamento anche lontano dalle proprie dimore. Ad Avellino pare ci sia una sola struttura privata dotata di piscina per idrochinesi terapia. Altre convenzionate si troverebbero fuori provincia e questa è una situazione inaccettabile se si considerano i benefici che gli utenti traggono dalle terapie effettuate in piscina. Inoltre privatamente una sola seduta, ci ha riferito la nostra telespettatrice, costa 35 euro. Nel suo caso dovrebbe tenere almeno due sedute a settimana, una spesa che soprattutto in questo momento diventa insostenibile. La piscina presente nel centro Australia di Avellino, utilizzata per attività riabilitative, non può più rimanere chiusa. Va garantito il diritto alle cure e vanno date delle risposte all'utenza, alla quale bisogna dire chiaramente quando e se sarà possibile riutilizzare la piscina del centro Australia. Che sia il responsabile del centro di Contrada Moretta o il dirigente dell'Asli Avellino, speriamo che quanto prima venga data una risposta a queste persone.